Ciao a tutti, questo video è dedicato al mio avviso che come vedete non se la passa tanto bene, ho diversi provoletti ma che è molto ruvido e secco per via del mare quindi cerchiamo di occuparci di lui, anzitutto rimuovendo il trucco che mi ha avanzato praticamente da ieri sera quindi prendo il mio struccante bifasico di Cien e lo passo con un dischetto sugli occhi mi è rimasta giusto un po' di matita che devo rimuovere prima di procedere con la detersione quindi strofino più delicatamente possibile il dischetto anche su tutto il viso in modo tale che sia fatta una prima pulizia e successivamente prendo queste salviette di laurella che io amo molto perché hanno un tessuto cosiddetto cuscinetto che è molto soffice e delicato e passo una salviettina appunto sul viso rinfrescandolo ed eliminando eventuali residui di trucco asciugo un po' l'umidità, vedo che ho qualche peletto fuori posto sulle sopracciglia e approfittando che la pelle è ancora secca vado a estirparli ma sono veramente pochi li tolgo quindi con la mia vidata pinzetta senza essere troppo precisa giusto quei due o tre più visibili vi faccio un po' di carezzine e proseguiamo direi che è il caso di fare uno scrub e utilizzo questo nuovo acquisto di Cien che è l'acqua rich è un detergente esfoliante che effettua un peeling molto delicato come vedete si presenta come un gel ruvidino in virtù dei granuli che contiene al suo interno e quindi baglio il viso con della semplice acqua corrente chiaramente e poi prendo un po' del prodotto in questione e lo passo sulle guance sul mento insisto un po' sul mento e sulle gote per poi passare alla fronte e anche ovviamente al resto del viso insisto il naso alla zona T che è quella più problematica e a questo punto effetto un massaggio con movimenti circolari andando a insistere sulle zone più difficili e quindi una volta aver strofinato ben bene tutto il viso si sciacquo con l'acqua avendo cura di rimuovere tutto il detergente ed ecco qua che in questo modo la pelle è già molto più pulita e soprattutto ve lo garantisco con questo semplice peeling è già molto più liscia adesso prendo un asciugamano e tampono delicatamente senza strisciare la spugna mi raccomando sarà leggermente arrossata ma è comprensibile perché abbiamo fatto uno scrap quindi ci sta è un rossore momentaneo completo la detersione utilizzando questo detergente viso della biofilosophy che è un nuovo acquisto è un detergente con avena bio delicato e lenitivo per pelli secche e sensibili e guardate certificato ICEA è vegan ok quindi con ingredienti del tutto naturali la cosa mi piace moltissimo l'ho trovato da Ticotà a un prezzo di 3-4 euro ne metto un pochino come vedete si presenta come un gel trasparente e a questo punto lo passo sul viso sempre con movimenti un po' circolari e pulisco ben bene la pelle adesso sembrerò un po' ridicola però insomma succede questo quando si usa un sapone sul viso ecco qua faccia mostruosa molto velocemente risciacquo ancora il viso per rimuovere il sapone come vedete fa poca schiuma proprio perché è un prodotto bio però tutto sommato per essere detergente ecco io insomma un pochino di schiumetta la fa e la cosa non mi dispiace affatto ci siamo quasi e quasi del tutto rimosso e ancora una volta prendo l'asciugamanino e vado a tamponare il viso per la seconda volta in pochi minuti adesso è veramente fresco e pulito certo i brufoletti non sono scomparsi però però sicuramente è meglio di prima passiamo a questo punto all'applicazione intanto qui ancora ho la pelle un po' umida quindi passo ancora un po' l'asciugamano passiamo all'applicazione di una crema idratante questa è della Omnia è una crema che ho quasi terminato alla mandorla e malva ecco bio anch'essa certificata Icea senza oli minerali, senza parabeni, siliconi e coloranti anche se è lenitiva, è molto nutriente infatti non amo utilizzarla d'estate però devo terminarla e semplicemente la applico su tutto 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 il viso a questo punto è davvero morbido, ve lo garantisco niente a che vedere con la pelle ruvida e secca che avevo dieci minuti prima di girare questa fase del video qualche carezzina dolce per voi e per me voilà al massaggio dedico qualche secondo in più per riattivare la circolazione del viso a questo punto vi faccio vedere anche cosa applico sul viso e precisamente sulle labbra dopo questo step della detersione un lip balm di Kiko che ho acquistato di recente questo si chiama Strawberry è di una recente collezione di Kiko e lo trovate ora in salto nei negozi è semplicemente un balsamo labbra molto molto nutriente è un po' lucidino in colore o leggermente rosato se vogliamo ecco ma io lo utilizzo come fosse un puro cacao e oltre a questo vi faccio vedere adesso cosa faccio per rendere un po' presentabile il mio viso così nella routine estiva di tutti i giorni vado a prendere questa vecchia palettina di Kiko che è costituita da una terra, un blush e un illuminante e prendo la terra che è una terra piuttosto calda e la passo su tutto il viso come se fosse un fondotinta in polvere in modo tale da rendere più uniforme l'incarnato come vedete essendo io molto abbronzata non mi scurisce la pelle ma più che altro la rende più omogenea mi sono accorta di avere qualche imperfezione evidente e quindi prendo un correttore e vedrete che è molto più chiaro della mia pelle però intanto lo applico sulle zone critiche quindi mento fronte e sopra il labbro dove ho qualche puntina rossa lo stendo molto velocemente con le dita e poi per ovviare al fatto che ho scherito eccessivamente queste zone vado a riprendere la mia terra e la riapplico proprio dove ho appena messo il correttore tutto qua in questo modo ho corretto anche se non moltissimo queste piccole imperfezioni cutanee passo ancora un po' di terra rifinisco il tutto dopodichè prendo un mix del blush e dell'illuminante e lo applico sulle gote sempre con lo stesso pennello molto molto velocemente perché d'estate non dedico più di pochi minuti al mio make-up quotidiano altro conto se poi devo uscire la sera qualche brushing anche per voi infine cos'è che faccio? cosa sto cercando? vediamo ha semplicemente il mio mascara che non può mancare in nessuna stagione questo è un semplice mascara nero di New York Colors però d'estate è opportuno utilizzarne uno waterproof visto che si suda di più per non parlare del fatto se andate al mare però solitamente io non utilizzo il mascara o il trucco in generale prima di andare al mare ecco qua direi che sono molto più presentabile dell'inizio sono più che soddisfatta e nulla spero che vi sia piaciuto il video io vi saluto vi faccio un po' di carezzine e grazie per essere stati con me ci vediamo molto presto nella mia solita vecchia location perché sto rientrando a casa mia ciao ragazzi, ciao ragazze a molto presto ciao 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 ciao